Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di come rompere le postazioni, in questo caso su standoff, quindi sempre i soliti consigli per il competitive e per Lega su postazione. Ora, se magari la partita parte, se premo il tasto A, ok, ora vi farò vedere postazione per postazione i modi più semplici per romperla, o i modi più efficaci comunque. Allora, portiamo comunque subito da quella centrale, quella iniziale, vai, metto Maratona. Allora, per prima cosa, per rompere questa postazione il mio consiglio principale è quando partite, se si sbriga magari il timer. Allora, prima cosa è di cercare di avvicinarvi alla zona del tank, quello vicino alla statua, alla zona di statua, e di controllare quella zona, perché così sponate lì. E avete anche la cosa che fa sponare gli avversari lontani, non quindi in verde. Questa è la cosa più facile, per arrivarci se avete lo spawn brutto comunque sempre usare magari fumogeni in questa zona per non farvi vedere, qui sul muro, eccetera, eccetera. E cercare di fare una mossa combinata, perché qua entrare da solo è veramente difficile, dato che c'è magari un nemico posizionato qui ad osservare, un altro sopra, e così via. O magari uno che guarda dietro. Quindi sempre cercare di fare un'azione combinata, come ad esempio una persona entrata davanti, uno da dietro, un altro va in muro rotto, o i due che entrano, uno appena entra in postazione corre subito sotto legno per fermare i nemici che spawnano qua a destra, o qua, dipende comunque. Quindi questa è quanto riguarda la prima postazione. Per la seconda postazione è quella di verde, la cosa più facile da fare è tenere la zona di gas. Dato che gli avversari terranno questa zona, voi arriverete da sinistra. Bisogna sempre utilizzare in questo caso fumogeni, eccetera, eccetera, e quindi coprire questa parte in modo da non far capire se si sta per scavalcare o si fa il giro in back alley. Back alley tendo il vicoletto dietro, quello. Quindi passare per la porta principale, passare per back alley e scavalcare. Questo, diciamo, è il metodo più semplice, perché sicuramente avrete delle persone che vi guarderanno da lì, da lì dietro, da là, ci sarà qualcuno nascosto qua dentro così nei pacchi che non si vede. Quindi la cosa migliore è entrare sempre contemporaneamente. Queste sono tutte il, diciamo, cioè tutte postazioni in cui bisogna essere coordinati e specialmente sono postazioni da SMG, tutte tranne quella centrale. Per quanto riguarda invece la terza, casa nonna, facciamo conto che voi spugnate male. Al posto di pushare sempre da kebab, da qua dietro, facciamo conto che voi spugnate male là, al posto di pushare da qua dietro, il mio consiglio è di spargervi pure qua, quindi mandare due magari nel vicoletto questo qui. Poi, magari uno qui dal centro che così elimina il nemico che sta in stalle e si arrampica, o se no fa solamente questo, perché solamente fare questo fa cambiare lo spawn e fa spawnare i nemici laggiù, quindi lontanissimo. Vovete tutto il tempo di romperla. Il mandato migliore per romperla è comunque salire sopra il carro armato e da qua, o se no da qua dentro. Una cosa che non tutti fanno è quando c'è una persona che sta contenendo la postazione, quindi là dietro magari, al posto di pusharli addosso, rimanete nascosti qua e aspettate l'avversario, oppure qui, in modo che così l'avversario deve perdere dei secondi o venire verso di voi e i vostri compagni hanno tempo per raggiungervi. Un'altra cosa, comunque sempre importante, è passare da qui sopra, però il problema è quando si scavalca. Cercate di non scavalcare qui, ma qua giù, perché molte persone scavalcano e scavalcano qua e vengono visti. Se invece scavalcate qua, forse avete fortuna e riuscite a correre qui dentro così velocemente e uccidere la persona camperata. Comunque, quarta hill. Queste hill alla fine sono molto semplici da spiegare, cioè perché, diciamo, serve solo la coordinazione. Per rompere questa hill principalmente bisogna essere, come al solito, coordinati, non smetterò di ripeterlo, perché queste sono tutte postazioni dove bisogna essere vicini, corto raggio, scontri con SMG, quindi è sempre meglio essere coordinati. Uno o due persone da qua, una persona che magari passa da Muro Rotto, utilizzano sempre i fumogeni in questa zona, in modo da non farsi vedere da chi è in verde o da chi è nascosto qua dietro, che qua ragazzi potete trovare gente nascosta qua sdraiata, gente là dentro, gente là, dappertutto. Quindi pure qua dietro, cioè li potete trovare ovunque, qui dietro, qui come sono messo io che in questa posizione non vi si vede da sinistra, ma voi potete vedere la gente che arriva, cioè li potete trovare ovunque, quindi sempre utilizzare magari un fumogeno qua, in modo che copre visuale, passare per di qua e di qua, quindi sempre in due, oppure in due da dietro, e in questo caso i nemici spawnano lontani, non spawnano in trattore se ci sono persone in castle lì, ma spawnano direttamente in kebab, quindi lontanissimi, avete tutto il tempo di andare lentamente e prendere la postazione, qui il consiglio è se arrivate da qua in due o tre comunque di cercare di arampicare, vi state attenti a questo corner perché la gente si ficca qui dietro, uno schifo, o qua, quindi state attenti, e cercate comunque di entrare, cioè se uno si trova, diciamo, dei vostri compagni qua e voi siete alla porta, entrate simultaneamente perché magari l'avversario che è qua potrebbe uccidere il compagno lì alzarsi e uccidere anche voi, quindi sempre meglio andare insieme. Dunque queste sono le quattro hill principali, non c'è nient'altro da dire perché come avete visto sono molto semplici questi consigli perché alla fine è tutto un lavorare di squadra, dovete solamente allenarvi sul muovervi simultaneamente, quindi magari riuscire ad avere una persona che mentre sta entrando qua ce n'è un'altra che passa da lì, e magari un'altra ancora che invece fa il giro così e va subito a bloccare lo spawn o a spawnkillare i due che vengono uccisi in postazione. Quindi dovete sempre cercare di pensare a muovervi coordinatamente in questa mappa, non è come Raid che vi posso dire dove poter fare qualcosa, in questo caso è molto più difficile, dato che queste mappe richiedono, vedete, la hill questa qui, scontri tutti i ravvicinati, quella è una casa, quella è un'altra casa, verde è un'altra casa, quindi sta tutto a voi a cercare di essere coordinati, io posso solamente indirizzarvi verso il movimento migliore da fare, ma poi sta a voi nel momento di farlo con il compagno. Comunque questo è il secondo episodio di come rompere le postazioni, farò anche un video su come difenderle in questo caso, vi spiegherò dei setup abbastanza particolari perché molte persone non sanno come far spawnare i nemici dall'altra parte della mappa, quindi vi farò vedere attraverso i video pure le spawnkill perché in questa mappa si possono fare le spawnkill solamente uccidendo due persone e poi correndo in un'altra zona. Quindi aspettate pure il prossimo video e bella raga fatemi sapere con i commenti se vi è piaciuto. Bella!